Buonasera a tutti, è una grande gioia condividere con voi questa sera una mia grande passione, l'automobile, perché l'automobile è nuovo, l'automobile è sicuro, l'automobile è bello, non mi sto sbagliando, perché quando l'automobile è stata inventata alla fine dell'Ottocento era considerato un mobile semovente e quindi nelle lingue come l'italiano e il francese era declinato al maschile. Le donne poi non tardarono ad impossessarsene, già all'inizio del Novecento c'erano numerose donne alla guida di veicoli, la regina Margherita aveva la sua zedel dotata di tutti i comfort e già Francesca Mirabile Mancusio di Palermo nel 1913 fu la prima donna ad avere la patente di guida che era stata introdotta l'anno prima per regio decreto. Ma insomma, uomini o donne, l'automobile è stata una grande rivoluzione per tutta la società. L'automobile ha trasformato il modo di vivere. Pensate cosa significava all'inizio del secolo scorso poter avere a disposizione un mezzo che consentiva di coprire le distanze in tempi molto, molto inferiori rispetto agli anni prima. Ad esempio, in Inghilterra fino al 1896 le vetture che circolavano per strada dovevano essere precedute da un uomo di corsa che agitava un drappo rosso per allertare i passanti dell'arrivo dell'automobile. Quindi immaginate cosa doveva sembrare avere sulla strada, sulle strade, questi mezzi circolanti. Ancora oggi la London to Brighton celebra il decreto legge che superò questo obbligo e finalmente le vetture poterono circolare. Voleva dire che giravano a 6 chilometri e mezzo circa all'ora la velocità di un uomo di corsa. Ma le vetture già allora avevano un potenziale molto, molto più elevato. Già nel 1896 una vettura elettrica straordinaria, questa è la London to Brighton che si apre ancora oggi con il rito dello strappo del drappo rosso. Ma già le corse cominciarono subito. Come ho letto in un museo in America che ho visitato di recente a Filadelfia, le competizioni sono cominciate non appena è stata costruita la seconda vettura. La corsa, la sfida, il senso del superare, superare se stessi, superare gli altri. Un'incredibile corsa verso l'innovazione. E già, dicevo, nel 1899 una vettura elettrica, la Jamais Contant si chiamava, superò i 100 chilometri all'ora, i 105 chilometri all'ora, e vinse la gara del chilometro lanciato. Un'altra gara straordinaria fu vinta dalla Itala nel 1907, che coprì la distanza impensabile di 60.000 chilometri da Pechino a Parigi e arrivò prima. Erano in cinque i concorrenti. Ma superò i concorrenti di una settimana, li anticipò di una settimana. Sono imprese straordinarie. Dovete immaginare davvero il senso di libertà, di possibilità incredibile che ha portato l'automobile. E poi, finalmente, la diatriba, se fosse uomo o donna, fu superata abbastanza brillantemente da uno che di donne ne aveva una certa esperienza, Gabriele D'Annunzio, che nel 1926, in una sua lettera all'avvocato Agnelli, che gli aveva donato una Fiat 509 Cabriolet, e che lui aveva attestato, per ringraziarlo, nel ringraziarlo, gli scrisse anche che quella sortiva ogni dubbio. L'automobile è femmina. E quindi, da allora, questa è stata un'altra vittoria del gentil sesso. Ma diciamo che oggi l'automobile ci fa vivere l'esperienza in tutt'altro modo. Oggi fa parte della vita quotidiana di tutti noi. Il percepito dell'automobile non è più quello del senso di realizzazione di noi stessi. Io non so per quanti di voi, alla mattina, a dover prendere l'auto, mettersi in coda nel traffico, possa essere ancora un'emozione, come lo era nei primi anni del secolo scorso. E tutto sommato crea anche tanti problemi, inquinamento, traffico, ma dobbiamo anche considerare che le città di oggi sono state costruite, le vetture girano su strade, che una volta erano percorsi solo da cavalli. Quindi per questo ci troviamo in questa situazione. Ma anche per i giovani l'automobile non è più, non rappresenta più quel senso di emancipazione, di indipendenza, di libertà che rappresentava per noi. Questa è la 500 che io guidavo con orgoglio a 18 anni. Era un pensiero irrinunciabile prendere la patente immediatamente, compiuti i 18 anni per poter guidare, poter spostarsi da Castrocaro, dove vivevo, a Forlì, andare a scuola da sola, essere indipendente. Oggi per i giovani non è più così, hanno altre ambizioni, altre aspirazioni, possono comunicare, muoversi in mille altri modi. Queste sono le strade in cui siamo costretti a circolare. Ma devo dire che io penso che l'automobile e la sua storia non siano affatto finiti. Penso che l'automobile troverà la strada per superare queste difficoltà. Perché penso che ancora sia irrinunciabile il diritto, il bisogno dell'uomo di muoversi liberamente. L'automobile è il mezzo personale di mobilità per eccellenza. Quindi credo che tutto lo studio, l'innovazione che si sta portando avanti comunque consentirà di conservare l'automobile come un bene futuro. E oggi si stanno progettando città intere dove i veicoli a guida autonoma potranno circolare, potranno essere connessi, potranno sviluppare l'intelligenza artificiale. Quindi è una storia tutt'altro che finita. Ce la racconteranno. Certo, i fatti anche recenti dimostrano che c'è ancora strada da fare per l'automobile. Ma la direzione è questa. Però ecco, io penso che non sia solo una sfida di tipo tecnologico. Penso che sia anche importante trovare il modo di collegare la storia, il passato, le soluzioni che già allora si pensavano al presente e al futuro. Penso che sia importante che ci sia forse un luogo in cui questo possa avvenire. Come dice Oran Pamukka, far sì che il tempo diventi spazio. E quindi un museo, anche un museo dell'automobile, può avere un ruolo nell'evoluzione della storia dell'automobile. Quindi un museo che non sia una raccolta di cimeli, perché tutto sommato l'automobile non è del passato. L'automobile è presente tuttora, oggi, sulle strade, sulle piste, nei centri di innovazione e sviluppo. Si continua a studiare, a progettare nuove soluzioni. Quindi il museo deve diventare un luogo in cui si dibatte, si discute, si condividono idee, soluzioni. Ci sono già molti musei dell'automobile. Ci sono musei di marca, il museo Ferrari, il museo Alfa Romeo, il museo Mercedes, Porsche. Ce ne sono tanti, innumerevoli nel mondo. Ci sono collezioni pubbliche e private che sono state raccolte nel tempo con grande passione e con la voglia di condividere con altri questa passione. Ma oggi per un museo non basta mostrare. Bisogna creare dei collegamenti, delle emozioni, per attirare i visitatori e per coinvolgerli sul futuro. E un museo oggi, questo lo può fare in tanti modi, con tante iniziative indirizzate a diverse tipologie di visitatori. Per esempio, a chi è più anziano, si possono raccontare le storie delle vetture del passato, di quando loro erano giovani, le Giulietta Sprint, le Lancia Aprilia, quelle dei loro genitori. Ci possono essere i giovani da coinvolgere in tante iniziative, per esempio lo sport o i viaggi. Ci possono essere laboratori didattici, ci possono essere vetture legate ai film perché è appassionato di cinema. Quindi tante storie da raccontare. Ma soprattutto per i giovani è importante poterli coinvolgere in modo da poter attraverso l'automobile sognare e inventarsi e qualificarsi per un futuro migliore. Perché io penso che laddove si studia, si lavora, sia importante farlo con una finalità superiore, che sia quello di portare la storia alle generazioni future. E non importa se sono uomini o donne, c'è bisogno dell'energia di tutti per migliorarsi e portare a un futuro migliore. In un museo che non sia un luogo dove si custodiscono le ceneri, ma dove si coltivano le braci. Grazie. Grazie.